Nome. Simone. Matteo. Materia preferita. Educazione fisica. Eh lo sai che tosta, cioè non lo so io. Penso, penso, tra, no, no, una è un popolare opinion e l'altra vabbè, una è educazione fisica e l'altra è matematica. Videogioco preferito? Fortnite. Mio gioco preferito? Eh ragazzi, Spider-Man, Marvel Spider-Man Remastered che ci sto giocando ultimamente e purtroppo non ho avendo una PlayStation 5, no me lamento però, no non ho avendo una PlayStation 5, non ho potuto giocare proprio io, Marvel Spider-Man 2 ma anche quello è un grande videogioco, oppure Fortnite. Tre aggettivi per descriverti? Eh questo è difficile, allora io direi, solare, forse, nelle situazioni, magari un po' più serie, sono un po' troppo scemo e poi, boh, penso, timido. Io, partiamo da uno negativo, egocentrico, altruista e solare. Film preferito? Castaway. Non ce n'è uno, cioè, posso dirne tanti come dirne due, cioè, uno, vabbè, ne dico uno così a caso che mi sta prendendo il cem, me lo sono rivisto ultimamente solo per quello, se no, non si merita tutto quanto, anche se è un gran film, Jurassic Park, me lo sono visto recentemente ed è una bomba. E anche se ci sono tantissimi altri film, eh, quindi non consideratelo come il mio preferito, già tra due giorni potrei ricambiarlo. Qual è stato il tuo primo video? Allora, il mio primo video è stato la formazione che farei di Atalanta-Roma. In questo nuovo canale o quello che ti hanno eliminato? In questo nuovo canale. Invece proprio il primo, primo, primo è stata una mia presentazione di me come Super Simul03. Mentre io... Eh, io... Ah, sì, la mia presentazione, cioè, ho scritto letteralmente chi sono, puntini, puntini, puntini. E basta, c'è un video di un minuto e 51 dove io parlo con un disegno. Vabbè, ci sta, dai. Canzone preferita? Mai, sola, mai. Ultimamente, perché anche lì ne possiamo dire tante, però ultimamente quelle che sto ascoltando di più... Eh, ce ne sono troppe. Without me o Slim... O... no, Without me, di Eminem. Cibo preferito? Pizza. Pizza. Giocatore preferito? Lionel... Il football... Messi. Lionel Andres Messi, Cuccettini. Attore preferito? Ti dico... Robert Downey Jr. Invece, vabbè, io ce n'ho una marea, cioè, gli attori preferiti. Ma andando verso il cuore, andando verso tutto, e considerando che è stato il mio primo film, Robert Downey Jr. anch'io, anche... Domanda bonus, vai. A quanti iscritti pensi di arrivare a fine anno? Mi auguro di arrivare almeno a 500 iscritti. fine anno 700-800, sulla fascia là. Non penso ancora a 1000, anche se stiamo lì, eh, ragazzi? Perfetto. La domanda, l'ultima è, fammi un saluto per il termine del video. L'ho messa io. Questo video può finire qui, da Matteo Studio, il SuperSimo03 è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella! Bella!